L'idea nasce dai miei studi su Paolina che ormai durano da più di vent'anni. C'era bisogno di dire qualcosa di nuovo su di lei che è una donna straordinaria, una donna letterata, una donna scrittrice. E mi è venuto in mente di cercare in tutta Italia le sue lettere. Ho cercato, ho trovato in archivi e biblioteche tantissime lettere di Paolina, più di 50 lettere inedite. Ma andavano riunite insieme al suo corpus, a quel corpus di lettere che già si conoscevano. Quindi l'idea è stata di rimettere insieme queste 421 lettere, di cui ripeto 50 inediti, e anche per le lettere che erano state pubblicate ai primi o alla fine dell'Ottocento o ai primi del Novecento, cercare di recuperare i testi originali. C'è tutto il mondo di Paolina in queste lettere. Paolina adesso si offre al pubblico in una veste nuova, in una donna che accoglie il suo destino, accetta il suo destino, che la porta fino a 57 anni a vivere nel palazzo di Recanati, dove aveva vessuto anche con Giacomo. Ma finalmente poi la seconda vita, 57 anni, libera ormai dai genitori, Paolina cambia, decide finalmente di fare quello che non ha mai fatto. Compra vestiti lussuosi e viaggia. Viaggia in molte città d'Italia e arriva a Pisa. A Pisa, in quella Pisa, nella quale il fratello aveva detto che aveva trascorso dei giorni molto belli, e a Pisa Leopardi aveva scritto a Silvia. Qui Paolina arriva nel 1868 a 68 anni, passa tre mesi straordinari, poi si ammala e a Pisa finisce la sua esistenza. Ringrazio il premio, ringrazio la giuria, voglio ringraziare questi giurati che hanno accolto Paolina, e soprattutto hanno accolto la voce di Paolina. Sono 150 anni quest'anno dalla morte della sorella di Giacomo Leopardi e 200 anni dall'infinito. Bene, la giuria del premio Aganor ha deciso di ricordare, a 150 anni dalla sua morte, questa straordinaria sorella rimasta nell'ombra.